ora sei un quarto dobbiamo andare su di lì grazie a tutti a destra di questo sperone e qua arbola e questo qui è il lago dei sabbioni ecco al cima qui di fronte quello lì è il blind allora Bergheil e qui e qui Sì, 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 sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.